All'entrada del temps clart, per gioiare e comensare, e per gelo si irritare, vola reggine a mostrare che le siamo rosa. Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio pubblicato da pochissimo da Ufficina Libraria che si intitola L'esperienza medievale dell'arte, Gli oggetti e i sensi, di Herbert Kessler, a cura e traduzione di Fabrizio Lollini e Giacomo Confortin, che abbiamo il piacere di avere i nostri graditi ospiti, ai quali come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parlino di questo interessante lavoro. Prego Fabrizio o Giacomo, dipende. Parto io, Fabrizio Lollini, io insegno storia dell'arte medievale all'Università di Bologna e volevo magari in prima battuta raccontare un po' la genesi di questa edizione italiana. Partendo un po' da lontano, nel senso che il testo che tu hai introdotto viene da una genesi un po' lunga perché molti anni fa Kessler, che è uno dei storici dell'arte medievali più autorevoli nel panorama mondiale statunitense, che scrisse questo libro dedicato all'approccio nei confronti dell'arte medievale, quindi una sorta di introduzione all'arte medievale, che era basato principalmente sull'idea del guardare e del conoscere attraverso il guardare. Questo testo non è stato tradotto in italiano, a sua volta derivava da un articolo più breve sullo stesso tema che Kessler appunto aveva all'epoca poi successivamente ampliato. verso il 2016-2017 Kessler invece riprende in mano questo testo che doveva sempre mantenere dal suo punto di vista il ruolo di introduzione in un qualche modo globale all'arte medievale e lo trasforma, lo amplia, sostituisce delle parti e soprattutto lo caratterizza in un modo diverso che è quello dell'approccio plurisensoriale e intellettuale, cioè si passa sostanzialmente dal guardare semplicemente l'arte medievale, dal percepire visivamente l'arte medievale all'esperienza più, come dire, sinestetica dell'arte medievale e quindi entrano in gioco anche gli altri sensi, entra in gioco l'olfatto, entra in gioco il tatto e quindi Experiencing Medieval Art, che è il titolo appunto del libro nell'edizione originale, da proprio conto di questa sorta di senso return che c'è stata negli ultimi 25-30 anni nella storia dell'arte a seguito, diciamo, di quello che era già successo nella storia tupur e nell'antropologia che è appunto l'attenzione degli studiosi, dei ricercatori ai sensi e quindi l'oggetto artistico come viene percepito attraverso la vista, ma non solo attraverso la vista. Quindi è un po' un paradigma di lettura dell'arte medievale molto differente da quello che viene praticato in altri ambiti geografici, soprattutto molto differente da come l'arte medievale viene in genere, ma non sempre, devo dire, studiata in Italia. Quindi Kessler non si occupa di stile nel senso estetico del termine, Kessler non si preoccupa di creare gruppi stilistici, cataloghi di artisti, non si preoccupa di precisare troppo cronologie, per cui per esempio abbiamo parlato con Giacomo e anche con l'editore, ovviamente a suo tempo, rispetto al fatto che nel libro ci sono le illustrazioni che hanno come didascalia semplicemente XII secolo, XIV secolo, IX secolo e questo anche quando attraverso dati esterni la stereografia ha delimitato già in un qualche modo degli slot di produzione un pochino più ristretti, proprio perché appunto a lui interessa un altro modo di guardare, che è anche un altro modo di conoscere, perché dai sensi ovviamente la percezione dell'arte medievale transita attraverso l'occhio della mente, attraversa la preparazione e, come dire, la postura culturale del soggetto che appunto interagisce con questo manufatto artistico che può essere un reliquiario, può essere una scultura, un dipinto. Questo è un po' il motivo per cui io mi sono interessato alla possibilità di tradurre questo libro in italiano, anche in Italia negli ultimi tempi, devo dire, queste tematiche si sono iniziate a praticare, però diciamo questo è un po' un saggio importante, un po' perché viene da una personalità così autorevole, un po' perché è globale e quindi non si dedica, come viene fatto negli ultimi anni appunto in Italia, a casi studio specifici, ma proprio da una chiave di lettura di questo tipo, il più possibile generale, ovviamente non invece generica, entrando appunto nella possibilità di ricostruire in un qualche modo quella che era l'esperienza del manufatto artistico nel periodo in cui veniva prodotto, ma anche, e questo è molto importante, magari Giacomo poi dirà qualcosa, nei secoli successivi alla sua produzione, che è una tematica che a noi ha interessato molto, per cui ho preso contatto appunto da una parte con Kessler, dall'altra parte con un editore, che come hai già ricordato tu, è Officina Libraria di Roma, specificamente con il suo direttore Marco Jellinek, siamo riusciti a trovare una triangolazione virtuosa, Officina Libraria, quindi acquisiti i diritti dalla casa editrice dell'edizione originale, che è la Toronto University Press, di Toronto, in Canada, e quindi io e Giacomo abbiamo tradotto il testo, non senza fatica, perché la prosa di Kessler è molto densa, molto intellettuale nel senso alto del termine, abbiamo organizzato una piccola presentazione al testo, abbiamo scritto qualche paginetta, diciamo, di introduzione, e Herbert Kessler, che quanto mai, nonostante l'età vivo e attivo, e continua a produrre studi di grande importanza, di grande rilevanza, ci ha anche regalato una introduzione specifica all'edizione italiana, e quindi prima di Experiencing Medieval Art in italiano, avrete, chi comprerà il libro, chi lo leggerà, tre presentazioni, si spera non troppo ridondanti, ma devo dire che ci siamo spartiti i temi abbastanza oculatamente, e quindi una presentazione nostra, all'edizione appunto di cui parliamo oggi, una presentazione di Kessler alla nostra edizione, e poi la presentazione che lui aveva scritto per l'edizione originaria. Un'altra cosa che tenevo a dire, che grazie all'impegno di Officina Libraria, abbiamo un po' scardinato il repertorio iconografico, e quindi mentre il testo originale nell'edizione canadese era accompagnato da molte foto in bianco e nero, e da un inserto abbastanza smilzo e ridotto di tavole a colori, nel nostro caso, tutte le immagini previste da Kessler sono state raggruppate in due fascicoli ampi, e vengono presentate tutte a colori, e quasi tutte a piena pagina, e quindi il lavoro di analisi di Kessler, molto dettagliato e molto puntuale in certi punti, in certi momenti, si può giovare nella nostra edizione anche di un corredo visivo, come dire, di un certo rilievo e di un certo impegno. Io spero che questo testo possa, come dire, costituire una sorta di paradigma alternativo, non obbligato, ma magari opzionale, per chi si dedica, in un qualche modo, da studioso o da studente, appunto alla conoscenza dell'arte medievale. È un testo pensato, ovviamente, per l'università, ma che può interessare anche un pubblico informato più generale, è una struttura abbastanza chiara, abbastanza semplice, di cui magari, Giacomo, puoi parlare tu. Beh, buongiorno. Mi chiamo Giacomo, mi sono laureato a Bologna con il professor Lollini e la magistrale l'ho fatta invece a Venezia, dove la proposta di questa felice impresa mi ha raggiunto e almeno è stata felice questa traduzione per noi che ne siano gli artefici e speriamolo sia anche per questo pubblico italiano di Kessler. Io volevo tornare un attimo al sottotitolo che pure ha una storia, si lega a questa specie di fast script, a questi studi in onore che hanno dedicato a Kessler, a Bernon, il centro di studi sulla primarte medievale di Ivan Fodetti e appunto si chiamava Gli oggetti oltre i sensi, questa pubblicazione che Kessler era dedicata, noi abbiamo aggiunto il sottotitolo di Gli oggetti e i sensi, che sono i veri protagonisti di tutta questa trattazione. E gli oggetti, si capisce benissimo cosa siano sfogliando queste 81 illustrazioni a colori, è veramente il saggio migliore della varietà di questa produzione artistica medievale che Kessler rivendica per centrale, anche se spesso in Italia, soprattutto in Italia, sono ancora le cosiddette arti maggiori che sono più considerate e proposte anche nei corsi universitari. Ed è interessante però vedere la definizione che Kessler dà di oggetti all'inizio, nella prefazione originale, perché li qualifica come qualcosa che sia il centro, ma anche come della produzione materiale medievale, ma anche come qualcosa che delle entità che potevano essere trafugate, trasportate, scambiate, conformate a nuovi contesti spaziali, rimosse, potevano essere reimpiegate, eccetera. Quindi è interessante questa definizione negativa, questa definizione molto fluida e ampia e alla fine si vede fin dall'inizio della trattazione che è inutile tentare una definizione univoca. Oggetto per Kessler è sia il pavimento di Westminster, cosmatesco, che abbiamo visto adesso durante l'incoronazione di Carlo III, lo è pure la croce di Rosano, che è in un monastero molto più dimesso vicino a Pontassieve, vicino a Firenze, ma è anche il set ricchissimo degli avori di Salerno a cui Kessler ha dedicato e continua a dedicare un sacco di attenzione e critica. Quindi convivono entità materiche molto differenti. Quello che le unisce è il secondo termine del sottotitolo, ovvero i sensi. C'è questo trend, chiamiamolo così, ma che in realtà ha corso da decenni nella storia dell'arte medievale. questo controcampo si inquadra non soltanto l'oggetto in sé, la pittura, l'architettura, la scultura, ma anche chi ne fruiva visivamente, sensorialmente, ovvero il pubblico. Questo controcampo è semplicemente un girare la camera e vedere le comunità sensoriali, come ha a dire questo studioso molto citato da Kessler che è Richard Neuhauser, che si occupa di storia dei sensi, appunto, queste comunità sensoriali che dagli oggetti stessi erano strutturate attraverso i tempi della storia dell'arte medievale. L'indice è molto autoesplicativo e molto bello perché è tematico, non cronologico. Una trattazione cronologica sarebbe stata impossibile in questo labirinto diffuso di rimandi. Gli oggetti tornano anche decine di volte, ma sempre sotto luci differenti, perché Kessler li presenta tutti in modo molto chiaro lungo la trattazione e poi li richiama per i suoi fini specifici. Leggo velocemente l'indice, i capitoli sono nove che sono oggetto e appunto introduttivo, materia e si concentra semplicemente sui materiali e su tutti i significati che ad essi erano attribuiti, creazione che tratta un tema molto spinoso, ovvero lo statuto di artista durante i secoli medievali, tra le altre cose, spirito, spirito e qui è veramente, questo è un capitolo veramente utile per capire la pluralità dei modi in cui la significazione di un oggetto poteva avvenire. La tipologia è questo è questo parallelo che si compie tra una citazione biblica è un oggetto creato nel Medioevo che a questo archetipo biblico si connette ed è una modalità di significazione molto molto ricorrente che Kessler illumina sotto una luce nuova, possiamo dire. Il capitolo quinto è libro e su questo forse dirà una parola il professor Lollini. Il sesto è chiesa, il set primario di tutto quanto il discorso svolto nell'esperienza medievale dell'arte. Il settimo è vita e morte e qui si va dal ruolo giocato dalla memoria dell'antichità nella creazione dell'arte medievale fino all'immissione della realtà quotidiana di questo realismo di questa soggettività che emerge nelle arti figurative del II e del III l'ottavo è performance e il nono è soggetto. Soggetto chiaramente chiude il cerchio aperto dal capitolo oggetto ed è uno dei capitoli più interessanti e quello forse con il titolo meno trasparente perché sotto soggetto si raccolgono delle riflessioni inedite rispetto alla prima versione di questo libro. Passerei la parola al professor Lollini per un insight forse dentro a... Sì perché non so se siamo riusciti in questi minuti a raccontare un po' che cosa c'è se posso usare una definizione un po' un po' greve dentro a questo libro forse appunto come diceva Giacomo ha senso fare qualche esempio tenendo conto del fatto che comunque Kessler nella presentazione nell'introduzione diciamo alla sua opera alla edizione originale della sua opera delimita molto il contesto nel senso che lui dice io mi occupo di arte di un medioevo che fondamentalmente va dal periodo immediatamente successivo alla tarda antichità ma l'antichità e la tarda antichità vengono citate tante volte perché è necessario ovviamente lo sviluppo del suo pensiero critico fino in un qualche modo a quando l'arte non è più medievale per l'appunto cioè a cavallo del trecento oppure nel contesto magari extra italiano un pochino più più avanti non si occupa di architettura o meglio si occupa di architettura indirettamente si occupa degli spazi architettonici come set in cui vivono e vengono fruite le sculture i reliquiari i dipinti ma non fa diciamo storia dell'architettura e in un qualche modo dal punto di vista geografico si concentra sulla produzione europea occidentale anche se in realtà molto spesso vengono chiamate in causa anche altre aree geografiche quella orientale mediterranea che chiamiamo in un qualche modo vagamente con un termine un polasso bizantina anche quella islamica ma non facendone una storia ma notando come diceva prima Giacomo appunto che per esempio dei manufatti di quelle zone vengono in occidente pervengono in occidente vengono ricontestualizzati risemantizzati inglobati in altri contesti materiali vengono trasformati un discorso molto molto interessante che ha a che fare vorrei dire quasi con una tematica che ultimamente è molto di moda a livello globale che è quella della sostenibilità e del riciclo perché ci sono anche dei riciclaggi materiali in un qualche modo funzionali e come dire obbligati e motivati da ragioni che non sono né alte né intellettuali mentre invece ci sono dei riciclaggi che hanno come dire un senso molto molto preciso quello che affascina credo di questo libro è che come diceva Giacomo appunto gli oggetti vengono usati per così dire in un modo un po' un po' strano per i libri di questo tipo e quindi il primo oggetto o uno dei primi di cui parla Kestler nel libro è una una scacchiera di un gioco da tavolo di produzione insulare che viene presentato e viene descritto per un determinato motivo ma che poi ritorna una volta due volte tre volte visto da altri punti di vista e lo stesso appunto come diceva prima Giacomo come dire succede per altri per altri esempi per che ne so gli avori appunto di di Salerno che vengono come tutti o quasi gli altri manufatti che 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 impiega Kestler nella sua trattazione non esauriti per così dire in una circostanza in un caso specifico ma ritornano proprio perché una volta ne viene osservata la costituzione materiale una volta ne viene osservata la fruizione le modalità di fruizione del pubblico un'altra volta la contestualizzazione all'interno di uno spazio e così via io potrei fare appunto per esempio il caso del del libro manoscritto io mi occupo non solo ma prevalentemente di miniatura scusate quindi come diceva Giacomo c'è un capitolo book c'è un capitolo book in cui Kestler per esempio parla dell'importanza del libro con la L maiuscola del medioevo parla delle differenti tipologie librarie dai libri liturgici ai libri privati parla degli elementi costitutivi del manoscritto ovviamente del manoscritto miniato ma in realtà i manoscritti di cui lui parla prevalentemente appunto nel capitolo dedicato al libro compaiono in vari punti e quindi per esempio quando Kestler parla del valore allusivo e allegorico della definizione cromatica con questa ambivalenza che c'è sempre nel medioevo tra tonalità e materialità cioè oggi noi diremmo tra colore e pigmento in un qualche modo e quindi parla per esempio della porpora la porpora che è un materiale certo importante perché è lussuoso e costosissimo quindi è una sorta di status symbol certo portatore di un richiamo all'antichità perché la porpora è un indicatore come in certi casi il marmo come in certi casi il bronzo di legame funzionale con l'antico e con la tradizione classica diciamo mediterranea greca e romana ma è anche risemantizzato dalla tradizione cristiana come simbolo del sacrificio come simbolo del sangue a cui viene in un qualche modo rapportata anche se la tonalità non è proprio correttissima dal punto di vista proprio come dire della nuance di colore il sangue di Cristo e il sangue dei santi di Cristo e quindi come la porpora abbia anche una valenza appunto in un qualche modo sacrale non solo nell'accezione che aveva nell'antichità di una sacralità di dignità in un qualche modo di auctoritas ma anche di una sacralità in senso stretto appunto cristiana e quindi il libro ritorna nel capitolo dedicato ai materiali si parla per esempio della pergamena che è un materiale che non è neutro nel senso che la pergamena dei manoscritti medievali come quasi tutti i materiali che utilizzano appunto gli artefici medievali detiene in un qualche modo un valore autonomo la pergamena è porosa è irregolare e il miniatore come già prima lo scriptor se non sono la stessa persona come avviene in genere dopo un certo periodo diciamo alla fine dell'alto medioevo tiene conto del suo progetto oggi noi diremmo grafico di di queste imperfezioni tiene conto dell'effetto che può ricavare coprendola con il pigmento o schermandola leggermente in modo tale che in qualche modo si intraveda questa tonalità color avorio in un qualche modo oppure lasciandola proprio al neutro lasciandola non schermata e quindi le pagine diventano degli insiemi in cui il supporto non è celato per così dire non è nascosto ma l'elemento fisico costitutivo della carta della pagina la pergamena appunto in un qualche modo viene fuori viene fuori in in modi diversi ma il manoscritto il libro viene fuori anche in altri punti del libro quando per esempio si parla di performance si parla di come venivano usati i manoscritti soprattutto i manoscritti liturgici e quindi queste sorte di grandi rappresentazioni teatrali che si svolgevano sui pontili delle chiese sui pulpiti un pulpito o un ambone come quello di Enrico II ad Acquisgrana noi lo leggiamo in rapporto alla spazialità lo leggiamo in rapporto ai materiali preziosissimi di cui è costituito ma lo dobbiamo immaginare anche in un qualche modo vissuto quando appunto il libro faceva in un qualche modo se mi si passa questa esagerazione retorica risuonare l'ambone il libro attivava la lettura o il canto del libro trasformava e dava un nuovo significato allo spazio da cui veniva appunto utilizzato ci sono tanti esempi di questo di questo tipo la per esempio esposizione del libro verso i fedeli in una forma quasi totemica quasi da come dire adorazione dell'oggetto in sé come possiamo immaginare per esempio avvenisse nei primi insediamenti religiosi dell'area insulare dove il libro senz'altro era qualcosa e questo Kessler lo accenna di veramente molto curioso molto strano quasi magico perché pochi lo avevano visto e pochi sapevano leggere oppure il caso dei rotuli di Exulted che venivano ribaltati fuori in questo caso non sono libri a codice ma sono libri manoscritti a rotulo appunto che venivano svolti e lasciati penzolare proprio dalle pareti del supporto da cui venivano letti e cantati in occasione in questo caso specifico della della Pasqua la strategia di organizzazione della decorazione viene indagata da Kessler nel capitolo sul libro e non solo e quindi per esempio come certe costruzioni diciamo delle miniature medievali vengano pensate non sulla pagina ma sulla coppia di pagine quindi sul libro aperto come se il libro fosse in un qualche modo un dittico da riempire in una forma in una forma coerente fatta di di accompagnamenti visivi di incroci questo è un discorso molto interessante perché per esempio questo Kessler ovviamente non lo dice perché fuori dal dal suo ambito cronologico ci sono molti studi recenti su come appunto l'illustrazione libraria si ha pensata a struttura libraria aperta quindi a coppia di pagine in una singola pagina per esempio nella tarda miniatura della fine del 1400 soprattutto del 1500 diciamo fino al periodo che noi in genere chiamiamo manierista quando ovviamente il prototipo di riferimento diventeranno le grandi gallerie da Raffaello in poi dipinte o i cicli delle grandi cappelle dentro alle chiese quindi una strategia visiva complessa che appunto per l'ambito medievale Kessler indaga indaga per esempio nel suo rapporto con con la parola scritta un discorso molto complesso ma che davvero mette da parte come dire i nomi convenzionali dei maestri che noi ricostruiamo le precise cronologie per far capire in un qualche modo come funzionava l'oggetto libro chi ne usufruiva quali stimoli intellettuali estetici sacrali dava e questo appunto attraverso una pluralità sensoriale di approcci di approcci diversificati quindi ci sono tanto per far nomi appunto viene citato uno dei capolavori della miniatura anglo-irlandese di settimo secolo il Book of Darrow viene citata la celeberima Apocalisse Gulbenkian vengono citate le Cantigas di Santa Maria che sono un testo spagnolo che è diventato molto di moda quasi trendy vorrei dire negli ultimi 10-15 anni del secolo scorso e nei primi di questo proprio per questo rapporto molto complesso tra testo e immagine ma cita per esempio Kessler un paio anche di esempi di manoscritti miniati ebraici e molti di questi esempi appunto vengono riprodotti giù nel corso dei secoli come diceva Giacomo il discorso è tematico e non cronologico ma se vogliamo fare una cronologia il pezzo per usare un termine un po' brutto più recente quello più tardo che viene descritto da Kessler e che è anche da un certo punto di vista fuori dal suo range cronologico è un'aggiunta o meglio un completamento alle tre richeure del Duca di Berri che è una miniatura che viene realizzata negli ultimi decenni del Quattrocento in un periodo ormai in un qualche modo tra virgolette magari rinascimentale che che lui legge come attestazione di pratiche e di valori del pieno medioevo perché nella miniatura di Jean Colomb viene mostrata viene mostrato scusate all'interno di una chiesa che è sostanzialmente una riproduzione della Saint-Chapelle di San Luigi quindi in questo caso tanti manoscritti miniati concentrati nel capitolo dedicato al libro ma che funzionalmente Kessler richiama anche negli altri negli altri otto capitoli questo è un discorso molto affascinante e anche come dire per gli studiosi gli studenti è un discorso utile vorrei dire che è quasi un enorme catalogo di tutto ciò che il medioevo ha prodotto soprattutto appunto a livello di oggetti di quelle che come diceva Giacomo fino a qualche tempo fa venivano chiamate assurdamente arti minori ma ci sono anche dipinti ma ci sono anche sculture una sorta appunto di grande campionatura e ci sono dei casi magari ne puoi fare uno tu Giacomo in cui un oggetto esistente o addirittura un oggetto che non esiste più ma che è testimoniato viene citato in quattro righe in maniera molto incidentale ma dietro a quell'oggetto si può ricostruire un'intera storia che potrebbe occupare un intero libro quindi un po' una scatola cinese questo libro dentro cui si nascondono tante altre possibilità esatto questo esempio che anticipava il professore lo menziono dalla fine del libro e dalla fine della cronologia che il libro descrive se c'è questa grande attenzione critica oggi alle pratiche ecologiche dell'arte chiamiamolo con questo termine anacronistico nel senso del riuso dei materiali per creare oggetti diversi da quegli originali per cui quei materiali erano stati destinati un'altra grande attenzione oggi è quella alle immagini che io chiamerei mancanti distrutte si scrivono libri come politics of hiding politiche del nascondere gli oggetti oppure the wounded city le città ferite dai terremoti dai saccheggi quindi si c'è questa attenzione paradossale ma secondo me molto 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 appropriata agli oggetti che non sono più uno di questi è il labirinto di Obser che letteralmente in tre righe Kessler menziona nel capitolo performance ma potrebbe stare come abbiamo spiegato anche negli altri sette capitoli precedenti Obser la chiesa di Sant'Etienne di Obser aveva interseato nel pavimento al centro della navata presso l'incrocio dei bracci la chiesa questo labirinto sul modello di quello di Song o di Chartres molto più famoso probabilmente il terminus antepoem che abbiamo è la metà del trecento ma probabilmente risaliva la metà del secolo precedente come quello di Chartres sopra questo labirinto durante la liturgia della Pasqua veniva performata una danza che Kessler come dire di cui Kessler fa uno spoiler perché arriva alla conclusione fulminante nel suo stile che porta avanti in questo libro ovvero richiama un oggetto lo qualifica in due parole e ne offre l'interpretazione e così accatena tutti quanti gli altri in un dettato anche un pochino vertiginoso ma che può essere veramente messo a frutto questo non è un libro che sfogge erudizione ma che apre sempre nuovi pensieri il pensiero che si può fare su questo labirinto riguarda la danza che menziona Kessler col nome di Pila o Pelot speriamo che Fabrizio sia andato via per breve penso di sì no ci sono ci sono ok ok bene si chiama Pila o Pelot questa danza di Oxer della Pasquale le parole francese e latina vogliono dire palla ma anche gomitolo il gomitolo del titolo della danza è quello che Arianna avrebbe consegnato secondo il mito a Teseo per riemergere dal labirinto dove al fondo del quale avrebbe sconfitto il minotauro ecco questa memoria performativa dell'antico a Oxer nel 2 nel 300 era rievocata riattivata durante la liturgia pasquale perché Teseo è una limpidissima figura Cristi Teseo che scende nel labirinto per battere il minotauro è Cristo che discende negli inferi per riemergere con i progenitori e risorgere la nuova vita e questo è un'interpretazione che è lasciata lì cadere appunto è vertiginosa perché implica un gran numero di conoscenze lascia molti non detti che però sono colmati da tutte le altre cose che sono dette esplicitamente altrove nel libro ad esempio il labirinto come composizione diagrammatica i diagrammi sono un'altra grandissima attenzione contemporanea dell'arte della medievistica diagrammi come un design un incastro di figure geometriche che dice Kessler di per sé veicolano concetti il labirinto è chiaramente uno di questi pezzi di design la performance si parla oggi di conoscenza visualizzata attraverso il corpo ecco la danza circolare che questi chiarici performavano sopra questo labirinto poteva forse visualizzare le teorie neoplatoniche chiamiamole neoplatoniche un termine improprio il platone si conosce nel medievo attraverso Calcilio e gli altri commentatori della scuola di Chartres appunto o di Oxer la teoria latonica del moto armonico degli astri e dunque i chierici danzanti che si scambiavano questa palla questa teoria avrebbero visualizzato sono una serie di nozioni interpretazioni dati materiali documenti citazioni di scrittori medievali che vengono convocati nel libro con grande chiarezza anche se noi dobbiamo per causa congestione di tempi richiamare così velocemente io passerei altrettanto velocemente a spiegare il titolo del libro per poi passare la parola al professore e chiudere perché quello originale è experiencing medieval art che tradotto letteralmente sarebbe fare esperienza dell'arte medievale noi invece abbiamo scelto di tradurre il libro di Kessler l'esperienza medievale dell'arte anticipando quindi l'aggettivo medievale non per un mero fatto prosodico di armonia del titolo ma perché abbiamo raccolto la proposta diciamo così dell'epilogo di Kessler perché c'è anche un epilogo in questo libro che tratta più che di arte medievale di arte contemporanea Kessler ha una tesi molto chiara davanti a tanti sforzi critici oggi di spiegare la parte del pubblico davanti a quest'arte medievale restituire l'esperienza di quest'arte dei secoli passati a restituirla ci sono riusciti talvolta più gli artisti contemporanei dei curatori museali o dei critici Kessler porta un esempio veramente illuminante il titolo è blasfemo non lo citiamo lo leggete nell'epilogo se volete di una fotografia di un artista americano degli anni 80 che coinvolge questo Cristo questa statuetta di Cristo immersa in una materia putrida molto degradante e Kessler ha scoperto o ha semplicemente raccolto questa dichiarazione dell'artista fatta al Boston Globe che diceva di essere consapevole dell'insegnamento del catechismo secondo il quale che era stato impartito secondo il quale non è la divinità che i cristiani adorano dentro all'oggetto è soltanto la sua rappresentazione quindi il fatto che un oggetto sia realizzato in materiali poveri o addirittura degradati come quelli della foto in questione di questo Andres Serrano non è blasfemia è semplicemente un altro modo di materializzare il mistero dell'incarnazione di Cristo che dal cielo è disceso in terra e si è incarnato come la parola del Signore ecco il parallelo di Kessler ancora una volta vertiginoso cita Lando Di Pietro questo famoso scultore detto medievale che inserì in un suo crocefisso per la chiesa di San Bernardino di Siena questo foglio questa pergamena vergata di suo pugno dove diceva dove invocava la benedizione l'indulgenza per i propri peccati e della propria famiglia ma esplicitava anche di essere consapevole questo scultore medievale che il materiale nel quale aveva formato questo crocefisso colpito da una bomba americana dalla testa fessa uscì questa pergamena si rivelò Lando Di Pietro disse io sono consapevole che il legno con cui ho fatto questo crocefisso non è Cristo è il medium per il quale lo rendo percepibile ai fedeli quindi c'è questa grande divaricazione costante nell'arte medievale Balderico di Burgoye lo scrittore più citato medievale da Kessler compose questo distico che divenne anche il titolo di un libro precedente di Kessler nec Deus nec Homo né Dio né l'uomo sono quelli che tu spettatore medievale vedi in questa rappresentazione ma Dio e l'uomo sono quelli che questa immagine rappresenta cioè in idolatria il cristiano non adora l'oggetto adora il suo archetipo celeste la divinità il Dio e il figlio veri che attraverso la materia dell'oggetto si manifestano al pubblico questo è il motivo per cui l'esperienza dell'arte del medioevo l'esperienza medievale può darsi anche nella contemporaneità davanti a una fotografia di Andrè Serrano sono parole di Kessler che noi abbiamo semplicemente posto nel titolo e ci sembrava anche un omaggio alla grande complessità entusiasmante di questa pubblicazione ecco preciso che quando lo abbiamo intitolato d'accordo con l'editore l'esperienza medievale dell'arte e non l'esperienza dell'arte medievale l'abbiamo chiesto ovviamente a Kessler questa è la fortuna di tradurre il libro di una persona vivente attiva e anche per fare un piccolo gossip anche con una competenza linguistica sull'italiano imbarazzante nel senso che parla italiano meglio di me e meglio di Giacomo probabilmente e lui è stato assolutamente d'accordo anzi mi ha ringraziato non vogliamo essere ancora troppo molesti andando avanti io ho recuperato il libro che è questo e mi è venuta l'idea di scorrere semplicemente le tavole che sono appunto dicevo prima tutte a colori per dare un po' l'idea della varietà quindi il reliquiaro della farfalla trecentesco del museo diocesano di Ratisbona la scacchiera di Ballendary che citavo prima per un gioco da tavolo che si chiama Fitchel che sta nella National Museum di Dublino del decimo secolo un'insegna pellegrinale un badge diremo noi del del trecento un lussuosissimo calice della basilica di Sant'Isidoro a Leone il calice di Donia Urraca il reliquiario di David del museo di Basilea del trecento citato da me prima Ambone di Enrico II della cattedrale di Acquisgrana il reliquiario della croce di Zwifalten ma anche per esempio la celebre Belle Berriere che è una delle vetrate più importanti costituita da un riciclo di una vetrata precedente ricontestualizzata della cattedrale di Notre Dame a Chartres ma anche l'insieme del complesso altare ciborio pulpito e abside di Sant'Ambrogio a Milano la custodia di specchio in avorio del Baltimore World Artists Museum un manoscritto che non è un codice ma è un documento sciolto il cartulario di San Martin de Canigou du Canigou scusate del 1195 e poi ancora l'Apocalisse Gulbenkian che ho già citato il trattato teologico di Teofrido di Echternac miniato nell'undicesimo secolo imperio ottoniano gli affreschi della Cappella della Vergine della residenza reale ceca bohima Carlstein ma anche il celebre mantello dell'incoronazione del re d'Ungheria di Budapest il Sancta Sanctorum del di Roma e poi ancora Dossali Ambrogio Lorenzetti le porte bronze famosissime della cattedrale di Hillesheim legate al vescovo committente ma anche concepteur Bernardo ma anche il portale della celeberrima San Pierre di Muassac o ancora il sacramentario di dodicesimo secolo di di Tour della biblioteca municipale il manoscritto 193 o il transetto della cattedrale di Strasburgo fino appunto al Book of Kells al labirinto inciso sul marmo della parete esterna della cattedrale di San Martino a Lucca in qualche modo parallelo visivo almeno di quello che citava prima Giacomo non più esistente a Augsere fino a una statua che sta in piazza grande a Modena quindi questo per dire come il libro presenta veramente una casistica estremamente ampia e che appunto nel progetto di Kessler e anche nel nostro tutto sommato vorrebbe in un qualche modo costituire appunto un avviamento ragionato allo studio dell'arte medievale e spero che come dire siamo stati sufficientemente esaustivi e che il discorso insomma che volevamo proporre che è poi quello di Kessler perché a parte l'introduzione che abbiamo scritto io e Giacomo il testo è tutto suo ovviamente è anche appunto quello che è il suo il suo progetto che molto coerentemente devo dire ha portato avanti da diciamo una prima attività che è come dire da molto tempo ovviamente attivo nel mondo critico da una prima fase diciamo più tradizionale più legata ad una lettura dell'arte di tipo stilistico e di tipo iconografico è arrivato appunto a queste forme metodologiche innovative e che devo dire poi come dire lo vedono oggi un po' come un papà in qualche modo spirituale e non solo spirituale di tanti tentativi di esegesi critiche recenti negli ultimi 20 o 30 anni questo è un po' il discorso e questo è un po' credo l'importanza dell'edizione italiana di questo libro bene quindi a questo punto bisogna ricordare il titolo e invitare tutti ad andarsi a comprare il libro allora lo faccio molto volentieri eccolo qua allora lo mostro anche Herbert Leon Kessler l'esperienza medievale dell'arte gli oggetti e i sensi appunto officina libraria roma duemila e ventitré bene io allora vi ringrazio moltissimo ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove troveranno oltre a questa videopresentazione anche tutte quelle realizzate fino ad oggi grazie ai nostri ospiti grazie a lei grazie e complimenti per il lavoro all'entrada del temps per gioiare e cominciare e per gelo si irritare vol la regina a mostrare che le sia amorosa alla via alla via c'è la 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 la